nuova peugeot 508 sono molto molto curioso di scoprire tutto su questa nuova berlina francese e allora che ne dite se cominciamo subito con la recensione la peugeot 508 sportiva filante quasi sfacciata davanti a fare i full led con due enormi squarci verticali che fanno anche da indicatori di direzione la vista laterale mostra una linea quasi da coupé il muso punta verso il basso e la coda è raccolta dando all'auto una linea accattivante il posteriore dominato dalla fascia di colore nero che ingloba anche i fare a led in questa versione gt lo scarico è doppio mentre su tutte le versioni le portiere sono senza cornici se vi va potete rispondere al nostro sondaggio cliccando in alto a destra dirmi quale preferite tra skoda superb opel insignia gran sport e mazza 6 immaginate di essere al volante di qualcosa di completamente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati questa è la sensazione che sto provando in questo esatto momento al volante di questa peugeot 508 prima di tutto grazie al peugeot e cockpit ma non soltanto il peugeot e cockpit significa avere la strumentazione qua in alto completamente digitale personalizzabile e il volantino di dimensioni ridotte che dà quasi la sensazione di essere ai comandi di un aereo nella parte centrale la console divide in maniera netta i sedili anteriori e c'è tutto si controlla tutto da qua sopra i materiali utilizzati sono veramente molto buoni guardate che bella questa finitura in legno anche al tatto è ottima dà una bella sensazione di qualità e poi anche i materiali utilizzati che sono nella maggior parte cosiddetti soft touch e quindi morbidi nella parte alta nella parte centrale e anche qui c'è un bel inserto in pelle materiale utilizzato anche per il bracciolo e ovviamente per il volante gli assemblaggi potrebbero essere migliori se vado a toccare qua insomma un po infastidire gli assemblaggi sento un po di movimento che non mi piace moltissimo però in realtà dal punto di vista del design è veramente un abitacolo ben fatto che colpisce chiunque entra a bordo di quest'auto i sedili sono in pelle 1500 euro opzionali hanno una bellissima conformazione a livello estetico l'unica cosa nei lunghi viaggi portano a stare un pochino inarcati con le spalle non il massimo per avere il relax migliore l'infotainment dispone di tante funzioni ed è intuitivo basta poco per prenderci la mano per passare da una funzione all'altra si possono usare i tasti qui sotto ma le icone non sono molto ben visibili dal posto guida e questo porta a distrarsi eccessivamente per identificare il tasto che si vuole premere nella console centrale è presente inoltre lo schermo del sistema multimediale da 8 pollici sugli allestimenti meno costosi e da 10 pollici su quelli più curati la radio può essere sia digitale dub che fm e la riproduzione della musica può avvenire tramite bluetooth oppure con l'utilizzo di android auto ed apple carplay la peugeot 508 lunga 4 metri 75 larga un metro 85 alta 1 e 40 e gli interni con il peugeot cockpit come si comportano lo spazio qua dentro è moltissimo soprattutto in larghezza il peugeot cockpit quindi con il volante che sta un pochino in basso potrebbe creare problemi ai più alti io sono alto un metro 85 non ho grossi problemi perché perché riesco a stare seduto molto in basso su quest'auto c'è una guida sportiva una posizione di guida molto coinvolgente quindi non vado a toccare con le ginocchia vedete anche in questa posizione sono leggermente allungato rispetto a quello che dovrebbe essere perché mi trovo meglio guidare così su quest'auto ma non tocco sotto quindi riesco a manovrare bene il volante gli spazi per gli oggetti quotidiani sono diversi sul tunnel centrale abbiamo questo scompartimento dove tra l'altro troviamo anche una presa a 12 volt due portabicchieri e un bracciolo centrale veramente molto capiente in cui si nasconde anche una presa aux prese usb qui sotto nascoste alla vista quindi l'impostazione è molto minimale tende a essere tutto nascosto cosa succede però a questo punto che se vado a collegare il mio telefono con il cavo ad una delle prese usb devo comunque avere o un cavo molto corto quindi poter nascondere il cellulare qui sotto oppure avere il cavo sempre a mezzo e il cellulare posizionato in uno di questi scomparti o qui o qui questo potrebbe essere un po un problema volendo nella lista optional c'è anche la piastra di ricarica di induzione che permette di appoggiare il cellulare qua sotto e avere in questo modo la ricarica istantanea senza cavo però in quel modo non si può avere accesso ad android auto ed apple carplay che devono per forza avere il collegamento via cavo la linea del tetto non aiuta ad avere spazio abbondante per la testa e così i più alti finiscono per toccare per le ginocchia non c'è nessun problema mentre per i piedi se chi siede davanti sta molto in basso con il sedile la situazione non è affatto buona ci sono due prese usb e due bocchette dell'aria condizionata e poi c'è anche il bracciolo con due portabicchieri e la botola che permette di far passare oggetti lunghi sono 487 litri di capacità minima il nostro set di valigie come vedete c'è stato tutto c'è il portellone quindi si alza completamente la parte posteriore quindi ho facile accesso al vano di carico al contrario delle berline classica qui siamo abituati che hanno il baule quindi che si alza soltanto la parte posteriore ci stava ancora qualcosina sotto al piano di carico c'è la ruota di scorta quindi non si può mettere altra roba e poi come vi dicevo si può anche modulare lo spazio per poter caricare oggetti lunghi quindi direi che si può andare a fare il test drive pronti la scelta per quel che riguarda i motori vede i due benzina 1.6 pure tech turbo con potenze di 180 e 225 cavalli e la sola trasmissione automatica disponibile l'opzione diesel invece è più ricca con tre blu hd il 1.5 da 130 cavalli disponibile sia con il cambio manuale sia con l'automatico mentre il 2000 è declinato in due potenze da 160 e 180 cavalli abbinato al solo cambio automatico e at 8 quello che mi piace delle auto di questo segmento è una sensazione piuttosto generalizzata su tutti i modelli e proprio la stabilità che ti danno su strada quest'auto non è un'eccezione nel segmento infatti si guida veramente alla grandissima è stabile è precisa ti dà una grande sensazione di controllo ecco quello che dà in più questa 508 rispetto a molte altre rivali però è una maggiore sensazione proprio di sportività di dinamismo che altre auto non riescono sempre ad eguagliare merito di questa sportività di questo coinvolgimento in parte va al peggio e cockpit sia questa impostazione di guida con il volantino piccolo mi ha convinto mi è piaciuto già su altre auto della gamma peggio mi era piaciuto ma qua secondo me riesce ad avere un comportamento ancora migliore 180 cavalli su questo esemplare avrei voluto invece qui qualcosina in più perché non sembra avere così tanta potenza secondo me un po di filtro lo mette il cambio questo cambio a 8 marce che non è il massimo se cominciamo ad alzare un po il ritmo è perfetto tarato benissimo per andare alle basse andature oppure per un'andatura turistica quando si comincia ad alzare il ritmo non l'ho trovato così capace di stare dietro alle richieste magari un pochino più impegnative di velocità di cambiata però per il resto poi nella maggior parte del tempo questo cambio va veramente molto molto bene sospensioni raffinate come schema multilink al posteriore tra l'altro sulle versioni più potenti abbiamo anche gli ammortizzatori a controllo elettronico quindi tramite la pressione di questo tasto posso andare a modificare le modalità di guida posso mettere una confortevole oppure una sportiva e in quel modo avere il volante un pochino più rigido il cambio un po più veloce nelle cambiate un po più sportivo diciamo così e gli ammortizzatori più duri quindi l'auto diventa veramente veramente super efficace tra le curve molto divertente quindi se cercate un'automobile sportiva anche in questo segmento dove comunque sia un ottimo comfort di marcia per i lunghi viaggi avete trovato ciò che fa per voi perché quest'auto si comporta alla grandissima in curva vi do anche un paio di riferimenti sui consumi di questo motore il 180 cavalli 2000 turbodiesel cambio automatico trazione solo anteriore non esiste 4x4 su questo modello si fanno indicativamente 12 chilometri con un litro contando anche andatura allegra in autostrada e anche un po di città perciò secondo me considerando la potenza in ballo è già comunque un ottimo risultato capitolo adas quindi sistemi di assistenza alla guida a parte quelli molto diffusi anche su auto di categoria inferiore come ad esempio la frenata d'emergenza automatica oppure il controllo della stanchezza del conducente o ancora l'avviso di abbandono della carreggiata c'è su quest'auto il sistema che ti permette di mantenere l'auto stabile al centro della corsia ora almeno questo è quello che dovrebbe fare nella realtà non è poi così preciso adesso andiamo da questo lato dove dovremmo avere un pochino di possibilità di farvi vedere come funziona io vado a schiacciare tramite il tasto qua dietro il regolatore di velocità quindi in questo modo abbiamo un'auto che riesce a tenere la corsia vedete anche mollando il volante l'automobile sta al centro della corsia fin quando si viaggia in queste condizioni non ci sono grossi problemi in autostrado visto che tende un po stare troppo verso una delle due linee quindi quasi come se non riconoscesse molto bene la distanza tra una linea e l'altra la distanza invece dalla linea che riesce a seguire in maniera chiara viene mantenuta in maniera millimetrica quindi il sistema comunque riesce a rilevare le strisce in terra la segnaletica orizzontale però diciamo che non è proprio il massimo per quel che riguarda la guida semi autonoma certo è che nelle code da tangenziale nelle code in autostrada vi posso garantire che diventa una manna dal cielo perché è capace di guardare l'automobile davanti seguirla all'interno della colonna di traffico e quindi basta soltanto dare un lieve colpetto di gas nel momento in cui la colonna si rimette in movimento e l'automobile si muove da sola quindi accelera e frena fino al raggiungimento della velocità che voi avete preventivamente impostato con il cruise control adattivo un'altra cosa molto interessante di cui volevo parlarvi è il night vision ossia il visore infrarossi che anche di notte riesce a riconoscere i ciclisti i pedoni o qualsiasi essere vivente all'interno del campo visivo quindi davanti alla vettura riesce perciò a darvi una migliore possibilità di identificare eventuali ostacoli veramente utilissimo se viaggiate spesso di notte magari in zone poco illuminate oltretutto volendo tramite la selezione di questo tasto si può anche attivare il parcheggio automatico quindi si clicca qua poi si seleziona il tipo di parcheggio che si vuole effettuare e a questo punto l'auto fa tutto da sé sia il controllo dello sterzo che il controllo dei pedali altri due dispositivi di assistenza alla guida il controllo dell'angolo cieco quindi nel momento in cui sto per spostarmi su un'altra corsia con la freccia inserita oppure quando sta sopraggiungendo un veicolo da dietro mi fa vedere tramite un segnale visivo sullo specchietto che non posso farlo se non mettendo a rischio la sicurezza e poi un'altra cosa molto interessante il fatto è che l'automobile legge i cartelli stradali di qualsiasi tipo anche i limiti perciò basta schiacciare un'altra volta il tasto sul cruise control il tasto memoria e in questo modo l'auto si adatta ai limiti di velocità massima che sono vigenti in quel tratto di strada veramente veramente molto utile mi è piaciuta molto questa 508 sia per come si guida che per quello che offre considerando anche che è una delle auto più originali del segmento quindi se cercate proprio questo quest'auto fa al caso vostro vi lascio con i prezzi indicativamente 30.000 euro di partenza ma si sale fino a 50.000 come in questo caso quindi un prezzo non proprio basso ma comunque una dotazione molto completa se volete avere un preventivo gratuito potete cliccare qua sopra e ricevere anche una consulenza gratuita sull'auto che fa per voi noi ci vediamo alla prossima sempre qui su drive gay se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al nostro canale youtube ciao ciao